Un saluto dal Tg della mobilità. Sino all'8 settembre si svolgeranno da parte di Rete Ferroviaria Italiana lavori di ammodernamento sulla linea Tigliano-Viterbo-Cesano. La circolazione ferroviaria tra Cesano e Viterbo-Porta Fiorentina è sospesa. Per tutto il periodo dei lavori resta garantita la circolazione dei treni da Cesano verso Roma Centro e viceversa la tratta Cesano-Viterbo sarà garantita dal servizio bus sostitutivo organizzato da RFI. La stazione di Cesano sarà quindi lo scambio principale treno-bus e capolinea dei pullman sostitutivi con salita e discesa sul piazzale davanti alla stazione. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.